Bene, bentornati. Allora, siamo sempre a pagina 146 e vediamo l'esercizio numero 3. Il 2 dovreste averlo già fatto in autonomia e me lo consegnate su Classroom. Allora, andiamo a vedere il numero 3 assieme. La consegna dice, scrivi le espressioni letterali che corrispondono alle operazioni indicate. Cioè, c'è una frase e la dobbiamo trasformare in un'espressione letterale, in un monomio, eccetera. Vediamo un po'. La frase del numero 3 dice, aggiungi al quadrato di A il doppio di B. Bene, aggiungi al quadrato di A il doppio di B. Noi ora ci dobbiamo inventare un'espressione letterale che racconti questo stesso significato. Ora, provate a risolverla da soli. Quindi, prima fermate il video. Provate a risolverlo da soli. Poi riavviate per vedere la correzione. Siamo a pagina 146, numero 3. Buon lavoro. Procediamo. Allora, la mia espressione sarà, aggiungi al quadrato di A il doppio di B. Quindi, 2B lo devo aggiungere, il doppio di B lo devo aggiungere al quadrato di A. Ad A quadro. Ok? Questa è la mia soluzione. Vediamo se il libro ci dà le soluzioni. No. Comunque, considerate questa come soluzione corretta. Ora, proviamo a fare la successiva, la numero 4. Come al solito ve l'ha detto, siamo pagina 146, numero 4. Allora, trasformate, quindi dovete trasformare la seguente frase in un'espressione letteraria. Rete letterale. Ok? Sottrai al quadruplo di A il triplo di B aumentato di 2. Sottrai al quadruplo di A il triplo di B aumentato di 2. Bene, l'abbiamo scritta. Sottrai al quadruplo di A il triplo di B aumentato di 2. Adesso dobbiamo trasformarla in espressione letterale. Cioè, dobbiamo inventarci un'espressione, una sequenza di addizioni algebriche, prodotti, monomi, eccetera. Un'espressione letterale che mi dica di fare tutte queste operazioni. Sottrai al quadruplo di A il triplo di B aumentato di 2. Qui io ho fatto un errorino perché B è minuscolo. Mi raccomando, le lettere si scrivono sempre minuscole, ok? E procediamo. Ora interrompete il video, provate a risolverla da soli e riavviate per vedere la correzione. Bene, procediamo. Allora, adesso la trasformo. Vediamo un po'. Sottrai al quadruplo di A, quindi io devo avere il quadruplo di A, quindi A per 4. Il triplo di B aumentato di 2. Meno, glielo devo sottrarre. Aperta tonda. Il triplo di B. 3B, 3B, 3 per B. Ricordiamoci che nelle espressioni algebri che quando non c'è segno c'è sempre un per. Quindi sottrai al quadruplo di A il triplo di B aumentato di 2. Quindi, 4 per A meno, aperta tonda, 3 per B più 2. Ok? Spero che viate fatto giusto e ci vediamo al prossimo esercizio. Bene, riprendiamo. Abbiamo fatto a pagina 146 il numero 1, voi da soli in autonomia il numero 2, poi abbiamo fatto il numero 3 e il numero 4. Proviamo a fare il numero 5 che recita. Ora, lo scriviamo e poi lo risolviamo, lo trasformiamo in espressione letterale. Ripeto, moltiplica per 3 la somma del quadrato di A e del doppio di B. Quindi, abbiamo scritto il testo e noi questo testo dobbiamo trasformarlo in un'espressione letterale. Mi raccomando, scrivete tutto quanto. La pagina, il numero, la consegna e il testo. Ok? Quindi, moltiplica per 3. Ma che cosa? La somma. Ma la somma fra chi? Fra il quadrato di A e il doppio di B. Quindi è, moltiplica per 3. 3 per la somma. Quindi è una somma che devo moltiplicare per 3. Fra il quadrato di A, A alla seconda, e il doppio di B. 2 volte B. Quindi, moltiplica per 3 la somma del quadrato di A e del doppio di B. E questa era la nostra espressione letterale. Adesso noi abbiamo fatto insieme fino al numero 5. Io direi di fare insieme anche la 6, che è un po' più difficile. Vediamo la numero 6. E poi da soli mi fate fino alla 9. Allora, facciamo la 6 insieme, che recita. Dividi la differenza tra il doppio di A e il triplo di B per il quadrato di A. Scriviamo il testo e poi trasformiamola in un'espressione. Dividi la differenza tra il doppio di A e il triplo di B per il quadrato di A. Bene. Abbiamo scritto il testo che recita. Lo ripeto. Dividi la differenza tra il doppio di A e il triplo di B per il quadrato di A. E noi lo facciamo. Prima di tutto dobbiamo dividere. E che cosa dobbiamo dividere? Dobbiamo dividere una differenza. E tra chi? Tra il doppio di A, 2A, e il triplo di B, 3B. E per cosa dobbiamo dividerlo? Tutto questo, quindi tra parentesi, per il quadrato di A. Mi raccomando, va messo tra parentesi, perché per le regole delle espressioni prima si fanno i calcoli dentro le parentesi e poi quelli all'esterno. Ma se sono fuori dalle parentesi, prima si fanno le divisioni e poi addizioni e sottrazioni. Quindi se non mettete le parentesi, prima dovete dividere 3B e poi fare la sottrazione. Ok? Quindi io devo dividere la differenza tra il doppio di A e il triplo di B per il quadrato di A. E il quadrato di A è A alla seconda. Quindi dividi la differenza tra il doppio di A e il triplo di B per il quadrato di A. Ok. Abbiamo fatto insieme fino al numero 6 di pagina 146. Voi da soli in autonomia mi dovete fare il numero 2, il 7, l'8 e il 9. Buon lavoro! A presto! Grazie a tutti.